Nel Salone degli Specchi della provincia di Cosenza è stato presentato il progetto Calabria Terra dei Padri, promosso dalla Regione Calabria e gestito da Fincalabra, con l'obiettivo di far conoscere le opportunità che ci saranno per i comuni e i cittadini in quanto protagonisti dell'accoglienza sul territorio regionale. Il vero cuore del progetto è proprio questo, cercare intanto di attivare tutte le comunità locali che hanno un tasso di emigrazione molto alto. Un altro aspetto di fondamentale importanza è quello di cercare di internazionalizzare il più possibile le nostre imprese, che sono molto piccole e quindi spesso difficilmente stanno su mercati internazionali. Quindi utilizzare gli ambasciatori calabresi, cioè la gente che riveste ruoli importanti a livello internazionale, richiamarli alla loro terra per far sì che essi diventino delle sentinelle nel mondo della calabresità, invitarli a ritornare in Calabria, a scoprire una Calabria che molto spesso è raccontata in modo negativo, ma che invece, come sappiamo, è una Calabria davvero straordinaria. La provincia di Cosenza per questo progetto ha chiamato a raccolta i 150 comuni, i 150 sindaci e amministratori di questa provincia, proprio perché è l'accoglienza che caratterizza e contraddistingue i nostri borghi, che sarà l'elemento dominante e predominante di questo bel progetto, ma soprattutto di questa forma di turismo che nel corso degli anni porterà veramente migliaia di persone. Il progetto è finalizzato all'incremento delle presenze turistiche in Calabria, legate al turismo delle radici o turismo di ritorno. È uno dei progetti che intercetta il filone del turismo di ritorno, perché ha l'obiettivo di incrementare i flussi turistici, ma anche intercettare quelle persone che ci aiuteranno a raccontare la Calabria in un modo nuovo, che magari è proprio quella che hanno sentito dai loro nonni e che oggi forse riusciranno a raccontarle in un modo diverso.